Ma questa tosse si è che questo bruciore e risofago le vengono la mattina? Ma lei ha un'ernia ghiatale, mi scusi, si macron 300, uno al giorno. Ma si figuri, non mi disturba. Abbiamo scherzato, ora parliamo di una cosa seria. Dobbiamo aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica. È una malattia gravissima. Per questo dobbiamo sostenere la fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica per trovare una cura. Facciamolo, ma facciamolo adesso.